interventi di potenziamento nel nodo di milano aperta la porta della carità accanto alla stazione termini da papa francesco oltre 6.300 persone fra cui ferrovieri trenitalia hanno incontrato il papa completato il sottopassaggio centrale della stazione modenese rinnovato il sistema di informazioni ai viaggiatori a napoli centrale portanti interventi di potenziamento tecnologico su tutte le linee del nodo di milano sono in programma tra sabato 19 e domenica 20 dicembre per consentire a rete ferroviaria italiana di svolgere i lavori da sabato 19 a domenica 20 dicembre sono previste modifiche al programma di circolazione di alcuni treni delle linee milano bologna roma torino milano venezia barra trieste milano voghera milano bergamo milano piacenza milano monza brescia sesto san giovanni s1 lodi milano bovisa s5 varese milano pioltello treviglio s6 novara milano pioltello treviglio e s9 al bairate milano del passante ferroviario di milano ciò comporterà allungamento dei tempi di viaggio variazioni di percorso cancellazioni e sostituzioni dei treni con autobus vedilo candine allegate questi interventi sono un'ulteriore tappa del programma di ammodernamento tecnologico dei sistemi di gestione e controllo del traffico ferroviario dell'asse ferroviario torino milano venezia potenziamenti funzionali sia all'incremento degli standard di puntualità e regolarità del traffico ferroviario gestito sull'intera direttrice torino venezia e nei nodi metropolitani di milano e torino da un'unica torre di controllo sia al miglioramento da un lato del processo di manutenzione dell'infrastruttura con sistemi informatici di diagnostica predittiva dall'altro della qualità dei sistemi di informazione e comunicazione ai viaggiatori l'investimento complessivo per il potenziamento della direttrice torino venezia è di oltre 760 milioni di euro papa francesco ha aperto alla stazione termini la porta della carità per poi entrare nell'ostello caritas è proprio lì fare una messa la porta santa di via marsala è il rito inaugurale della sequenza di segni di misericordia caritatevole che francesco compirà una volta al mese per tutto l'anno santo appuntamenti che il vaticano definisce privati e che in futuro potrebbero anche avvenire lontano dai riflettori papa francesco ha sottolineato l'entrata al cielo non si paga con i soldi né con le onoreficenze poi ricorda gesù e nell'umiltà e nell'aprire questa porta santa vorrei che lo spirito santo aprisse il cuore di tutti i romani e facesse vedere qual è la strada della salvezza non c'è lusso non c'è la strada delle grandi ricchezze del potere c'è la strada dell'umiltà i più poveri gli ammalati i carcerati ma gesù dice anche i più peccatori ci precederanno nel cielo perché loro sono disposti a lasciarsi abbracciare dalla misericordia del signore e per questo che poi aggiunge oggi noi preghiamo per roma per tutti gli abitanti di roma per tutti incominciando da me perché il signore ci dia la grazia di sentirci scartati perché noi non abbiamo alcun merito soltanto lui ci dà misericordia e grazia e per avvicinarci a quella grazia dobbiamo avvicinarci agli scartati ai poveri a chi ha più bisogno perché su quell'avvicinamento saremo tutti giudicati oltre 6.300 persone tra ferrovieri e loro familiari hanno incontrato questa mattina papa francesco in vaticano nell'aula paolo di durante l'udienza organizzata in occasione dei 110 anni dalla nascita delle ferrovie dello stato italiane i dipendenti del gruppo fs arrivati a roma da tutte le regioni d'italia sono giunti all'incontro con il santo padre guidati dalla presidente gioia ghezzi e dall'amministratore delegato renato mazzoncini rappresentati tutti i settori di attività del gruppo dai capitreno ai macchinisti dai capistazione agli impiegati dai tecnici dell'infrastruttura ai lavoratori delle officine agli autisti sin dalla nascita 110 anni fa ha affermato gioia ghezzi il nostro gruppo ritiene che non possa esistere sviluppo sostenibile per un paese moderno senza partecipare attivamente al circolo virtuoso della solidarietà alla base delle nostre scelte strategiche ci sono i principi di etica di sostenibilità e di responsabilità sociale testimoniati concretamente dal duro lavoro delle donne e degli uomini di fs che in quest'anno giubilare aiuterà milioni di pellegrini ad arrivare a roma e a san pietro la storia degli italiani ha dichiarato renato mazzoncini è fortemente legata a quella delle ferrovie i notamenti sociali e i cambiamenti nelle abitudini di vita e nei costumi di intere generazioni sono avvenuti insieme all'evoluzione del modo di viaggiare il treno muovendo milioni di uomini e donne di questo paese in una dimensione collettiva ha contribuito a formare una nuova idea di mobilità e un nuovo modello di società tuttora con la straordinaria avventura dell'alta velocità capacità tecnica e gestionale che solo sette paesi al mondo oggi hanno il treno continua a cambiare le abitudini degli italiani un sottopassaggio più luminoso funzionale ed esteticamente gradevole collega da oggi tutte le banchine dei binari di arrivo e partenza dei treni nella stazione storica di modena è di nuovo del tutto operativo il sottopasso centrale dopo i lavori di riqualificazione di rete ferroviaria italiana avviati nel mese di ottobre e realizzati per fasi per consentire progressive parziali riaperture del tunnel in anticipo sulla chiusura definitiva del cantiere cui operai stanno ora completando le ultime finiture l'intervento ha riguardato il rinnovo della pavimentazione ora ingres porcellanato dei rivestimenti realizzati in vetro strutturato opaco di colore chiaro e dell'illuminazione ottenuta con fasce luminose alle ed inserite all'interno del rivestimento stesso anche il sistema di informazione ai viaggiatori sonora e visiva è migliorato grazie all'installazione di nuovi monitor e diffusori sonori gli ultimi dei quali saranno attivati la prossima settimana si conclude così nel rispetto dei tempi previsti la seconda e ultima fase di attività del cantiere fra gli interventi della prima fase realizzati fra la metà di luglio e la fine di agosto l'innalzamento del secondo e il terzo marcia piede della stazione 55 cm per facilitare l'entrata e l'uscita dei passeggeri dei treni la creazione di percorsi tattili a terra per i povedenti il rinnovo dell'illuminazione delle pensiline e la loro ristrutturazione e il posizionamento di nuove panchine e nuovi cestini per la raccolta differenziata investimento complessivo di rfi 4,5 milioni di euro un sistema di informazioni ai viaggiatori più efficiente nella stazione di napoli centrale rete ferroviaria italiana ha concluso l'installazione di nuove periferiche sonore e visive di ultima generazione in aggiunta a quelle già operative per migliorare quantità e qualità dell'informazione l'impianto audio completamente rinnovato e dotato di sensori per la regolazione automatica del volume in base a livello di rumorosità ambientale è stato integrato con altri 70 altoparlanti per complessivi 425 diffusori acustici in grado di diffondere annunci in tutte le aree della stazione un'ampia fascia led è stata montata in corrispondenza del grande tabellone centrale con l'indicazione di arrivi e partenze per l'inserimento di informazioni supplementari contesto scorrevole nell'atrio inoltre sono stati installati quattro grandi totem con schermo resistente agli urti e vetro antiriflesso per una migliore visibilità dei caratteri luminosi altre due banchine per il servizio dei tre in alta velocità sono state attrezzate con i display per l'indicazione delle vetture numerate che permettono al cliente di individuare con facilità la carrozza sulla quale ha prenotato il posto l'intero sistema è direttamente collegato alla torre di controllo del traffico ferroviario della stazione napoli centrale alimentato da una nuova rete di cavi che si sviluppa per oltre 50 chilometri dialoga con gli apparati per la gestione della circolazione dei treni ricevendo tutti i dati di viaggio che trasmette al pubblico in tempo reale sotto forma di informazioni audio e video l'investimento complessivo per gli interventi è di oltre uno vir questa settimana al posto della borsa vi faccio gli auguri di buon natale dunque buon natale e buone feste a tutti questa è la puntata finale a gennaio io tornerò con speciale enciclopedia treni una nuova serie della rubrica che spiega le categorie di treni soppresse buon natale e buon anno nuovo